Voglio trovare un senso questa sera, anche se questa sera un senso non ce l'ha. Un senso non ce l'ha, sai che cosa ha messo, nel senso non ha un senso, domani arriverà, domani arriverà lo stesso, senti che il petto è giù. Ciao ragazze e ciao ragazzi, sono in auto e voglio approfittare di questo tempo per parlare un po' con voi. Ho la cittura, non vi preoccupate, mi sono fermata ai cinesi per comprare l'ennesimo telefono qua, perché io ho un butto rapporto, dopo un po' li butto, cioè fatti usa e getta perché mi nervosiscono, si capovolgono, si staccano, ste robe, quindi questo è l'ennesimo, 5 euro alla volta, spesso è come un patrimonio, però insomma spero che a meno duri per questo video e poi dopo lo butto. Voglio dirvi delle cose molto importanti. Chi fa così caldo in questa macchina, sono levampate in calore. Ah, perdonate il fatto che ho gli occhiali, ma ho una faccia di merda, sto senza trucco, e mi sono messa solo sto burro cacao colorato per darmi un po' di colore, ma faccio schifo, ho delle occhiali da spavento, quindi vi risparmio questa rutta visuale e mi metto gli occhiali, non mi sento più a mio agio. E niente ragazze, ci tenevo tantissimo a parlare con voi, un po' sapete che a me piace cogliere l'occasione di alcuni temi, anche dai commenti, dalle cose, non per rispondere alle polemiche, alle critiche, alle cose, sapete, ma proprio per prendere spunto dai commenti, dalle cose, per ragionare assieme a voi, per riflettere. Sono alcune cose che a me molto mi fanno riflettere, no? E quindi praticamente cosa è successo, ho anche i capelli sporchi, li dovrei lavare, ma fate caso, insomma, non sono proprio al top. E in seguito al video, vabbè, ma in generale non è la prima volta, comunque in particolare dopo il video che ho fatto a Hool, video dei vestiti indossati, l'ultimo shopping che abbiamo fatto tra l'altro, due video, uno io e uno sul canale di Nancy con i suoi vestiti, ci sono stati parecchi insulti e cose abbastanza pesanti, che a me adesso, attualmente, sono comunque una donna adulta e ormai sono anni che faccio, c'è la grutta, quindi non mi vedrete più, sono anni che faccio questo, quindi ormai non do più peso. Ho ricevuto tantissimi, tantissimi commenti con parolacce, quindi troia, puttana, non ti vergogni. Il video dei vestiti, l'avevo chiamato a vestiti indossati cattiva ragazza, una cosa del genere, perché nel video dicevo Nancy mi sfotteva, soliti dibattiti, se l'avete visto lo sapete, io dicevo, ah no, io ho comprato tutte le cose da cattiva ragazza. Cioè, sotto quel video, poi, sei una troia, sei una puttana, ma anche su Instagram, su YouTube, sotto al video, un po' dappertutto. E allora io poi mi chiedo e dico, ma veramente stiamo ancora all'epoca, non so se è mai esistita questa epoca, per me mai, però che davvero da uno come si veste possiamo dire puttana, e poi puttana, il senso di puttana, che cosa significa? Perché veramente, io poi ci ragiono su queste cose e voglio capire per quale motivo io sarei una troia o sarei una puttana. No, guardate come lo dico tranquillamente, non mi pesa. Però per quale motivo una donna, neanche io, ok, non mi ci metto io, una donna che mette una minigonna, un vestito, un abito sexy, provocante, per quale motivo è una puttana o una troia? Cioè io davvero non me lo spiego, perché fondamentalmente a me piace vestirmi in un determinato modo e non mi sento assolutamente, insomma, fuori luogo, puttana, troia, sporca o che cos'altro. Eppure penso di essere una persona normale, veramente non me lo spiego, per quale motivo mettere in mostra il proprio corpo con un vestito provocante, ok, sexy, scusate, molto sexy, molto sì, molto corto, molto scollato, ok, tutto sì, ma per quale motivo? Cioè sono, ok, io ho letto alcuni commenti, ad esempio, a volte anche ci scherzo, a volte l'ironia a me piace molto, gioco molto su me stessa, ad esempio, una volta ho letto il commento, io quando me l'ho messa, in uno degli ultimi vlog, me l'ho messa quel cardigan, l'ho parlato, me l'ho fatta alla coda e devo andare dal suo mercato così, perché io sono così, sono molto così, alla cazzo, mi viene così, adesso così scendo, boh, non lo so, sono un po' strana in questo. È solo molto esuberante, molto nel modo di vestirlo, lo sapete, no, c'è anche mia sorella che mi sputte e nei commenti avevo letto una ragazza che mi ha fatto troppo sorridere, non so, magari qualcun altro pensava che o me la sarei presa e invece non mi ha detto con questo cardigan e leopardato e questa coda alta sembra che sei scappata di casa e hai perso la vestaglia e sei scappata di casa. A me ha fatto, vi giuro che mi ha fatto ridere, cioè io tipo sorridevo, dicevo, ah no, sei mitica, mi ha fatto troppo ridere, adesso non so, se l'ha detto con cattivera, ma non credo, insomma, Corina mi ha fatto ridere, ok, ci sta, accetto, chi mi dice, guarda, stai bene, però a me non piace questo tipo di vestiti, forse sono troppo vermi, io non li metterei mai, io metto solo i pantaloni lunghi, io metto solo il burca, copritevi, il lenzuolo, il piumone uscito col piumone, però tu ti messi così, ok, ma tranquilla, non c'è nessun problema, ma non capisco perché troia puttana per una minigonna, per un tacco, per una scollatura, per voler essere sexy e provocante. Io penso che l'avete capito un po' dai miei video, mi avete conosciuto, io sono una persona molto libera, sono una persona molto libera in questo, non mi frega assolutamente nulla dei pregiudizi e dei giudizi della gente, ma anche nella vita, soprattutto nella vita reale. Se mi va, ecco, ciao, se mi va, non ci abbandonare, se mi va di vestirmi in un modo, mi vesto in un modo, mi piace essere libera di indossare ciò che vuoi, ma in generale, rimaniamo all'ambito sfera vestiti, mi piace essere libera, non mi importa nulla, sono molto sfacciata in questo, fra virgolette. Io sono sia una persona dolce, carina, sono sia una persona con carattere molto tosto, cioè se mi metto in testa una cosa, come un vestito, se mi voglio mettere quello, io me lo metto. Tu mi puoi dire anche tutto il mondo che non lo so, è volgare, così, io me lo metto, a me non mi interessa nulla e a nessuno nella mia vita, nessuno, neanche quando ero piccola, mio padre mi ha mai detto non ti mettere questa cosa, non puoi uscire vestita così, non puoi uscire truccata così, stai troppo scollata, se no, mai. Sono sempre stata libera, i fidanzati sì che mi hanno detto, ma è sempre stato molto molto geloso e comunque su come mi vestivo, eccetera, però io ho sempre mantenuto i miei gusti, la mia libertà, insomma, in questo, sempre nel rispetto. Io penso, ecco, io questo penso, tornando anche al puttana, al troia, penso che il rispetto di un fidanzato, il rispetto di me stessa, il rispetto di se stessa, non è nel modo di vestire, ma nei comportamenti, io sono una persona pulita, ho una coscienza molto pulita, perché non sono mai stata puttana, troia, quello che dite voi, sono una persona molto tranquilla, essere questo, semplicemente mi piace di vestirmi in un determinato modo e non ci trovo nulla di male e mi viene, mi vuoi mettere un vestito corto e mi piace, ho anche questo lato del mio carattere, sono così, mi piace molto essere femminile, piace molto essere sexy, provocante, messimi in un determinato modo e voglio essere libera di farlo, perché anche quello è un modo di esprimermi e non capisco veramente, perché poi ci sono stati alcuni commenti di chi mi dice, ah, alla tua età, questi sono vestiti che può mettere una ventenne, allora, come funziona? Allora, quando è troppo piccola no, perché poi dove vai? Sei troppo piccola, hai 15 anni, vestita in un determinato modo, quindi come funziona? Le minigonne, vestiti corti si possono mettere, ditemi, dai 18 ai 25 anni, oltre ai 25 anni la minigonna non si può indossare, dobbiamo mettere burca, prima dei 18 anni burca, quindi l'unica fase in cui possiamo essere femminili, provocanti e indossare vestiti corti è fino ai 25 anni, ragazzi, ma che state a dire, ma veramente fate, alla tua età dovresti stare sposati, avere dei figli e non metterti, allora, voi alla mia età, alla vostra età, voi volete essere, voi potete sposare pure a 18 anni, volete avere figli, volete fare casa e chiesa, vi volete mettere il piumone e uscire col piumone? Cavoli vostri, ognuno fa le sue cose, io, sicuramente, io, per come sono fatta, aspettate che c'è il casello, per come sono fatta io, per il mio carattere, io, anche quando sarò sposata e quando arrivi al casello, praticamente c'è il portafoglio pieno di 50 euro che non puoi pagare e quando andiamo a fare la spesa c'è solo i spicci, perfetto, vabbè, ho trovato un 10 euro, a me mi odiano i casellanti, vi giuro ragazzi, mi odiano, quindi voi volete, insomma, vestirmi e tenermelo dopo perché siete sposate e che avete dei figli, io, non lo so, perché mai direi mai, ma io penso che in un futuro, io, anche quando avrò dei figli, non rinuncerò alla mia femminilità, alla mia sexitudine, io ci terrò sempre a mantenere il mio corpo in forma, ad essere bella, a curarmi, a truccarmi, a vestirmi e lo so che alcune di voi mi diranno, ah, ma non è quello il modo, magari puoi essere femminile, anche con un vestito lungo, con un pantalone lungo, ok, ci sta, avete ragionissima, ma ognuno sta bene nei propri panni e nei propri vestiti che vuole indossare, io sono anche molto maschiaccio, e devo dire questo, infatti molto spesso, oggi, ho vestito così, sono scazzata, vado sempre quotidianamente tipo in tuta, perché poi vado in palestra, le scarpette, quindi sono molto molto, anche maschiaccio, tranquilla, però se mi va, se mi devo curare, mi devo sistemare da femminuccia, da donna, sex, mi piace, mi piace farlo, mi piace curare il mio aspetto, lo farò sempre, una caratteristica del mio carattere, che comunque, aspettate un attimo, ho anche questo dato di carattere, cioè non ci vedo però nulla di male, io sono fatta così, in questo modo, sono sempre stata così, e lo sapete che mia sorella anche mi sputte per come vive adesso, che a volte sono eccessiva, mi piace queste cose strane, queste cose guardate, queste robe, sono sempre stata così, è inutile, che non mi venite a insultare, a dire volgare, fuori luogo, ma non ti rendi, li dico no, non mi sento, mi sento bene, mi piace vestirmi nel modo in cui voglio, fare quello che voglio e vi giuro, su quello che ho di più caro, di quello che dicono gli altri, non me ne può fregare di meno, ed è bellissimo ragazzi, anche per questo ho fatto il video, perché per messaggio che voglio dare a tutte le ragazze, non mi sentite sporche, sbagliate, se la gente vi giudica e vi dice certe cose, allora, io accetto tutto, l'ironia, mi potete anche insultare, perché anche se non lo capisco, non capisco il senso, allora se mi volete insultare, fate messo troia perché, spiegatemi, almeno mi fate capire, perché veramente io non riesco proprio a capire il perché degli insulti e non vi sentite sporche, sbagliate, io accetto tutto, ma l'unica cosa che non accetto è il bigottismo, il moralismo, io sono fatta così, basta, è inutile che me lo dite, sono così, sono molto aperta mentalmente, sono molto libera, sono molto nel modo di vestire, nel modo di agire, nel modo di capire, sono così, sono molto aperta, per me non esistono schemi, esiste quello che mi viene a fare di pancia, così lo faccio e basta, distinto, non mi frega di pensare, adesso non mi vesto così perché poi mi possono dire, o ma quanti anni ho, o ma star a volgare, o ma si vede il culo, ma si vede, non me ne può fregare, ognuno è fatta a modo suo, tipo sta mia sorella che è la tipa più timida, più riservata, più così, però mia sorella, faccio l'esempio di mia sorella perché ovviamente mia sorella la conosco, lei è molto, è più timida, è più riservata, però a parte scherzando, non mi ha mai giudicato a me nel modo di vestire, ma neanche alle altre, non ha mai detto, questa mi sembra una bitch, bitch, sei una bitch perché ti vesti, mai, quindi secondo me, io penso anche questo, perdonatemi se ve lo dico, le ragazze, le signore, le donne sposate all'età mia con i figli, i mariti che vogliono, escono solo con il burca, a me mi dici, però a me non può come fanno bene, ve lo devo dire la verità, perché secondo me non c'è età per curare il tuo corpo, per vestirti da donna, per sentirti attraente, e io lo farò sempre, perché un lato del mio carattere, come sono maschiaccio, come a volte sono tipo un uomo, perché comunque non mi curo, cioè vado in palestra, mi piace allenarmi, allenarmi duro, per esempio in palestra, alzare i pesi, non mi piacciono gli sport da femminuccia, però sono anche donna, mi piace essere donna, mi piace essere femminile e sentirmi attraente, quindi comprare cose provocanti, eccetera, io penso che ognuno debba rispettare l'altro, ecco ho fatto l'esempio di mia sorella, e queste persone, queste donne che mi vengono a dire, oddio che delusione vederti così, sei questo, sei quello, ma che ho fatto, cioè ma veramente facciamo, cioè secondo me le finte santarelle, come dico io, le santarelle sono più bitch, sono sicuramente più bitch di me sicuro, perché io poi in fondo in fondo sono veramente una santarella, quindi faccio tutto fumo e niente a rosso, queste sono le peggio, quelle che giudicano, vedo una ragazza, una in tv, io per esempio vedo una in tv, una showgirl, vestita in un determinato modo, così con la, non mi venga a scandalizzare, perché ovviamente comunque sta in televisione, quello, mi dispiace a volte, vabbè questo è ancora un altro discorso, se vengono valorizzate solo per il corpo, ma per esempio una Michelle Hunziker, una Hilary Brasi, che comunque sono donne dello spettacolo e hanno dimostrato di essere brave, intelligenti e quant'altro, quindi hanno anche altro e lavorano anche per altro, non solo per l'aspetto estetico, ovviamente se si vestono appariscenti, sexy, scollate e così con la, è giusto che sia così, cioè ma perché io penso che un po' c'è sempre un pizzico di invidia, ma neanche invidia per il corpo, invidia perché io per esempio io oso, io oso e non ho paura di farlo, sono una persona che non ha paura dei giudizi, sono libera, vedo quella cosa, la indosso, non me ne può fregare di meno di quello che pensa la gente, di quello che mi scrivete voi, ma anche nella vita di tutti i giorni, quindi penso che ci sia invidia, beh nei miei confronti no, dico in generale nei confronti di una donna che a me invidia, dei che insomma, anche questa cosa, spesso mi viene detto appunto di questi video haul e cosa, ah ma ti credi figa, sei bella, metti il culo, fai le pose provocanti, metti il culo fuori, allora io mi sento né bella né figa, l'ho detto miliardi di volte, cioè l'ho detto miliardi di volte e chi mi conosce la vita di tutti i giorni sa che io sono molto insicura sul mio aspetto fisico e mi trovo mille difetti, cioè io ho mille difetti, quindi assolutamente non mi sento né bella né figa né altro, non penso di essere ma non lo sono, quindi smettiamolo a questa cosa, è semplicemente un gioco, nei momenti cui io faccio il video, faccio le pose e così, io mi diverto, io veramente qualche volta vi devo registrare, il dietro le quinte è di quando facciamo questi video di vestiti io e mia sorella indossati, cioè ma facciamo le peggiorisate, perché noi poi ci mettiamo davanti alla telecamera a fare queste pose sexy che poi alla fine fanno ridere volutamente, cioè c'è ironia ragazzi, ironia, qua nessuno, figurate se mia sorella poi si sente figa, ci divertiamo a fare queste pose sexy, sai come delle ragazzine insomma, presentate le ragazzine si mettono il trucco, le cose, è tipo così noi, cioè non abbiamo nessuna pretesa di essere delle modelle o di essere figo, di essere sexy insomma, ci divertiamo, ironia, veramente ci facciamo la peggiorisate, poi tipo per esempio mentre stavo registrando tipo le cade con i tacchi oppure è tutto un gioco ragazzi, mai prendersi troppo sul serio, davvero, io quando leggo dei commenti che dicono, oh ma ti senti figa, no ti prego, non fare queste facce provocanti, ma davvero non capite che c'è ironia in quello che uno fa, cioè davvero, non lo so, vabbè, comunque tenevo a dire semplicemente a queste persone che continuano a dire, ah ma sei così, che delusione, oh mio dio, le parolacce, tutto il resto appesso, mollatemi perché tanto potete dire quello che volete, io né vi rispondo e né mi interessa quello che voi dite, proseguo per la mia strada, voi ci incontreremo prima o poi, voi col burka e col piumone e io col vestitino sexy, fino a 60 anni, no vabbè. Fregatevene, fregatevene, l'importanza di la correttezza e l'essere per bene pulita di una persona non si vede nel modo di vestire ma si vede nei comportamenti e io sono pulitissima, pulitissima, spero che questa riflessione vi abbia, insomma, fatto piacere, io sono contentissima di aver parlato con voi, di avervi, non so, lasciato un messaggio positivo di libertà, di comunque rispetto degli altri e di noi stessi, anche perché spesso mi viene detto nei commenti, ma lo sai che ti seguono anche le ragazzine, che esempio dai? Io penso di dare un buon esempio alle ragazzine, un esempio di forza, di carattere, di rialzarsi quando si cade, di credere in se stessi e di rispettare gli altri e di rispettare soprattutto le altre donne, di essere solidale con le altre donne perché io non ho mai e mai io offenderei, un'altra donna, filiamoci per il modo di vestire, ma in generale, io sono molto molto solidale con le altre donne, siatelo anche voi, fin da ragazzine, amore, coalizione fra donne, sentitevi libere, sentitevi forti, dovete essere delle donne forti, donne di carattere, non vi dovete far buttare giù o far colpire da giudizi o pregiudizi di chi magari, non vi invidia, però magari c'è un po' di frustrazione, un po' di... io dico sempre così, il bello è che siete tutto quello che criticate e vedete negli altri quello che voi invece siete, ma fa che in fondo sta puttana e sta troia, chi lo scrive, ragazzi io vi mando un bacio grandissimo, vi voglio tanto tanto bene, vi giuro veramente, vi voglio tanto tanto bene, pollice in su, lasciatemi un like se la pensate come me, viva le donne, aspetto di leggere i vostri commenti e di capire la vostra opinione, ciao!